e allora accogliamo il sei volte campione italiano di wrestling il nostro amico Red Scorpion ciao Michele grazie per l'invito e grazie per avermi fatto mettere qualcosa addosso perché con questo caldo è veramente impossibile avere dei sto praticamente a petto nudo anche in palestra però lì me lo concedono sono più tolleranti che twitch guarda purtroppo sì mi hanno fatto notare alcuni amici che insomma c'è questa policy allora meglio stare attenti eh alzare le mani è giusto è giusto allora Red sei tornato a combattere in Italia all'estero cioè qua ti hanno dato il via libera da pochi giorni praticamente da una o due settimane tu subito sei andato ovunque dai raccontaci un po' allora per dirti la verità Michele devo devo essere onesto e sapevo che a riprendere delle attività non avrei avuto neanche il tempo per respirare ma non parlo solo in termini di wrestling parlo proprio come un effetto rebound un effetto pendolo che mi avrebbe investito da inizio giugno e la mia previsione alla fine è stata corretta perché dai primi di giugno siamo partiti con gli show del Bologna wrestling team e subito dopo c'è stato uno show alla fiera di Modena e subito dopo c'è stato uno show a Napoli seguito da uno show a Budapest quindi ti lascio immaginare fare il primo match a Napoli viaggiare nella notte per arrivare a prendere l'aereo a Bologna alle sei di mattina tornare per andare in palestra il lunedì e poi tanti incastri stranissimi tipo Francia al confine con la Spagna e il giorno dopo a Lugano tipo 2500 chilometri percorsi su ruote in tre giorni partire alle 10 di sera da casa il giovedì e esibirsi il venerdì 24 ore dopo l'orario di partenza da casa quindi ogni weekend per fortuna mi viene da dire ci sono stati spettacoli in tutta Italia e in tutta Europa e continueranno poi si vedrà perché già a settembre ottobre sono organizzati degli show ma ovviamente molti predicono un secondo lockdown non so se sarà vero sono speculazioni e quindi tutti si stanno dando da fare per fare degli show in estate e devo ammettere che è partito molto bene anche il lavoro col Bologna Wrestling Team ci sono tanti nuovi iscritti e ho iniziato a lavorare anche in palestra come allenatore di pesistica quindi magari sono 14 anche 15 ore al giorno dalla mattina alle 7 fino alle 10 di sera una persona ogni ora perché giustamente devono smaltire tutto ciò che hanno imparato a cucinare nelle ore che avevano a disposizione quando erano in lockdown quindi bene per me e tanta fatica per loro è un periodo pienissimo e ne abbiamo parlato un po' via telefono e infatti quest'ora me la sono ritagliata non prendendo appuntamenti per allenare persone per dirti quindi sono molto felice di essere qui ma è un periodo veramente e per fortuna molto molto denso e anche gratificante devo dire. In chat vogliono vedere la cintura di campione italiano è lì con te o è in palestra? No è qua l'ho preparata e devo ammettere Michele è una delle cinture più belle che io abbia mai vinto a parte che c'è il tricolore italiano a parte che c'è il tricolore italiano che la rende veramente speciale e io ho sempre l'abitudine quando faccio magari foto e autografi con i fan gli faccio indossare la cintura soprattutto ai bambini gliela faccio tenere in mano e tutti quanti dicono che è pesantissima infatti è il peso che deve sostenere un campione una cintura di wrestling pesa più di 10 chili quindi è veramente un oggetto potente ti fa sentire potente mettiamola così. Allora ho raccolto un po' di domande già sul mio server discord visto che c'è molta curiosità ad esempio ora con il covid e il green pass per gli spostamenti in italia all'estero tu hai o i lottatori hanno qualche richiesta particolare qualche cosa a cui devono aderire tu hai delle certezze che chiedi ai promoter cioè come è cambiata cioè quanto è il livello di allerta? Allora Michele io ti devo dire eh devo dirti la verità è diventato tutto un pochettino più più complesso però se una persona è capace di organizzarsi e sa utilizzare al meglio le 24 ore che ci sono in una giornata è fattibile ad esempio due anni fa venivi invitata a uno show e eri libero non eri libero partecipavi e andavi adesso tu sai che a prescindere da tutto almeno torniamo indietro di un paio di settimane se devi partecipare a uno show 48 ore prima devi avere un tampone se sei all'estero devi avere un tampone anche per tornare in italia e devi premonirti di chiamare la 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 farmacia oppure il centro di che esegue tamponi almeno due settimane prima perché tutti vogliono viaggiare è estate quindi tutti vogliono fare e devono fare tamponi quindi io e giro costantemente con un'agenda alla mano perché devo per forza organizzare ogni singola cosa ad esempio sono andato a napoli sono andato a budapest e ti dico solo che tra le compagnie aeree per fare il check-in in macchina nella notte e fare il tampone il giorno prima di partire per napoli riceverlo mentre stai facendo lo show e scaricarlo mentre stai andando da napoli a bologna per prendere l'aereo sono tutte cose che devi mettere in conto senza contare che certi paesi come l'ungheria ti ammettono dentro solo se c'è un interesse nazionale in quello che stai facendo e quindi devi avere una lettera d'invito quindi tu praticamente devi girare con una con una carpetta che dice se hai preso il covid se non hai preso il covid se ha il tampone deve essere negativo eventuali altri documenti i biglietti dell'aereo dove alloggi eccetera 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 era tutta una roba che magari prima era spessa un terzo ma adesso è molto più corposa di tante altre informazioni poi ti dirò la verità alcuni ci guardano altri non ci guardano tutto quanto occupa un gran spazio nella valigia e va fatto e ti devi organizzare quindi è tutto un pelino più complesso ma se prendi il ritmo capisci che una cosa che va fatta poi michele scusami se mi dilungo ma ti voglio dire anche questa cosa ben vengano i tamponi e ben vengano i controlli perché io ho preso il covid dieci mesi fa durante uno spettacolo e il luntore tra virgolette era proprio il promoter della federazione e in quel periodo lì non era usanza un anno fa dieci mesi fa non era usanza fare tamponi per gli eventi sportivi io ho avuto la febbre undici giorni persone vicino a me si sono ammalate sono rimasto chiuso in casa per più di un mese perché il tampone usciva sempre positivo per fortuna non ho avuto effetti collaterali ma ci sono state persone che hanno avuto la febbre un giorno non undici giorni come me e però ancora faticano a respirare ecco se succedeva a me una roba del genere con tutta la molle di lavoro che abbiamo il cardio che devi sostenere i voli che devi fare poteva essere un grosso problema quindi ben vengano i tamponi soprattutto ora che magari la gente è stata e fa finta che non ci siano problemi ma attorno a noi ci sono un sacco di persone positive e ogni giorno ne salta fuori qualcuno di nuovo purtroppo ora che è ripresa l'attività chiamiamola con il pubblico la più bella in assoluto perché dopo tanto allenamento vuoi il contatto vuoi anche metterti alla prova quali sono le difficoltà appunto dal torniamo a fare lo show di tanta pausa il stato di salute che hai trovato nei tuoi avversari nei tuoi allievi negli organizzatori cioè si vede che la pausa ha dato dei problemi ha tolto delle liturgie oppure tutto è ripreso perfettamente guarda Michele è anche qui una divisione devo dividerla in due gruppi io ti posso dire che non mi sono mai divertito così tanto e non ho mai tirato fuori match di così alta qualità anche a discapito di sonno e di ore e ore e ore di macchina o di aerei o di scali o di pullman o di flixbus cioè sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla mia capacità di tirare fuori un buon match nonostante una stanchezza esagerata perché questo genere di tour de force mi è successo poche volte prima cioè se prendevo dei tour erano lunghi ma non mi capitava spesso di andare un giorno in francia il giorno dopo in svizzera un giorno a napoli il giorno dopo a budapest cioè sono cose a veramente fisicamente allucinanti ma ho viaggiato anche con degli allievi e e glielo detto e mi è capitato di affrontarli mi è capitato di combatterci in coppia sono veramente soddisfatto del nostro livello di performance e soprattutto il pubblico da una risposta carica e meravigliosa non è per tutti così perché ho visto anche lottatori che magari prima erano in grande forma con la pancetta o un po' più fuori forma io e alcuni allievi quelli che magari giriamo di più nel periodo di lockdown ci siamo dati da fare come dei matti ti ho raccontato più volte che durante il lockdown ho perso 11 chili e da quando ha riaperto la palestra ho ricostruito grazie ai pesi una grande massa muscolare quindi sono molto più leggero ma sembro molto più grosso e sono molto più veloce quindi a livello di forma impareggiabile cioè rispetto a prima del covid mi sentivo un pigrone un lazzarone se mi dovessi paragonare per molti non è la stessa cosa molti hanno avuto l'effetto contrario per quanto riguarda il pubblico invece michele tutti gli show al quale ho partecipato anche se in alcuni il pubblico era contingentato cioè limitato da posti a sedere previsti dalla normativa tutti gli show sono stati sold out napoli era pieno in austria c'erano 500 persone lo show di bologna che abbiamo fatto in una location un po alternativa perché era una birreria ha venduto 200 biglietti che 200 biglietti a momenti non si vendevano prima quando non c'erano limitazioni gli show in in ungheria pieni e in in francia un'arena dei tori per la corrida perché eravamo al confine con la spagna più di 400 persone quindi c'è questa presenza maligna che chiamiamo covid ma se io dovessi far finta che non esistesse sembrerebbe un grande periodo di rinascita e assolutamente positivo allora io ho visto un po di foto dagli show che hai pubblicato sui social quindi vi invito anche a seguire le scorpion su instagram soprattutto su facebook su youtube qui sotto sta passando il link del del suo sito internet personale con lo shop e tutto quanto ora fra poco parliamo della cintura che detieni che è della wiva wrestling italiano veramente autentico però eh volevo spezzare una lancia e farti delle domande sullo show di napoli che credo sia organizzato da un vecchio eh da una vecchia conoscenza del wrestling web italiano Michele Ippolito ecco lì c'era un contesto naturale c'era praticamente una quinta eh bellissima straordinaria e la domanda è visto che questo ragazzo da quanto ne so si sta impegnando a Napoli per fare qualcosa c'è la possibilità magari di impiantare una base lì e fare degli show con una certa frequenza perché quando sono andato a presentare i miei libri Napoli è probabilmente la città insieme a Roma dove c'è stato l'entusiasmo più clamoroso è è è un'ottima osservazione Michele e devo dire che in generale il meridione è da sempre grandi soddisfazioni poi noi meridionali siamo caldi io poi sono un meridionale imbastardito perché sono nato eh in Sicilia ma mi hanno deportato subito in Emilia Romagna quindi eh sono un po' così eh un immigrato tra virgolette nel nord e quindi ho il beneficio di entrambe le fazioni no il calore meridionale ma eh come posso dire l'essere posato e metodico come i nordici mettiamola così a parte gli scherzi devo dire che Michele Ippolito si sta muovendo veramente bene ma gode anche dell'appoggio di lottatori con esperienza esempio eh io Fabio Ferrari e altri lottatori lo affianchiamo molto in questa eh in questo suo progetto perché vediamo il grande potenziale quindi ad esempio a ottobre probabilmente ci sarà un seminario dove andrò ad allenare dei ragazzi napoletani che finito lo show mi hanno chiesto di essere allenati ed erano degli spettatori quindi io gli ho detto Michele se la cosa dovesse andare bene non è detto che tu debba fare una scuola e darla in gestione a un lottatore ma potresti usare i migliori lottatori dei miti del wrestling e creare un polo a Napoli proprio perché il napoletano promette veramente bene poi Michele Ippolito è una persona con tanti contatti nel suo palè nel suo paese è un politico sa come si fanno le cose e oggettivamente negli show eh a cui ho preso parte nei suoi show erano sempre cornici bellissime ti dico che eseguire il crossbody guardando il Vesuvio è una cosa che non mi era mai successa ed è bellissimo e queste cose ovviamente e prima dello show mi ricordo la sera prima abbiamo fatto un meet and greet in pizzeria quindi è stato il meet and greet più bello che io abbia mai fatto e avevo la possibilità di mangiare la pizza i fan che mi facevano delle domande ma intanto mangiavo la pizza e i crocchè e per una sera ho infranto la dieta e queste due cose hanno reso il weekend bellissimo quindi ti dico secondo me c'è la seria possibilità che a Napoli si possa creare qualcosa di più continuativo e secondo me si deve fare proprio per la grande risposta che sta dando il pubblico e allora voi che siete magari di Napoli o zone limitrofe visto che anche la città con il più alto bacino di iscritti ai miei social eventualmente restate in contatto con chi questi show li fa quindi red scorpion e con chi magari li sta organizzando una cosa intelligente da fare almeno quando io facevo l'organizzatore per chi è in questo business è creare una lista di persone interessate perché le persone interessate invogliano a investire quindi se voi siete lì siete interessate garantite che vi volete vedere uno show che i dieci euro di biglietto li pagate che che volete andare cioè gli eventi arrivano gli eventi arrivano i lottatori non vedono l'ora di esibirsi di fronte a voi detto questo c'è molta gente che ti segue con passione infatti ho raccolto un paio di domande parliamo della viva io non so se si pronuncia con la w all'americana o con la via l'italiana anche se la w davanti io non ho mai bazzicato questa promotion la conosco poco questa federazione quindi non voglio parlare a sproposito ho visto che stanno facendo delle cose interessanti anche con dei passaggi televisivi sui canali italiani e quindi vedo una certa movimentazione una certa intraprendenza che mi piace qualcuno dice che però in passato non collaboravi con loro mi ha scritto ma ha iniziato a farlo di recente perché hai riconosciuto che come realtà è cresciuta ed è diventata molto più professionale e quindi chiedono da cosa si vede un ambiente professionale cioè cosa ti ha convinto a dire ok vado anche lì avevi bisogno di lottare quindi diciamo è un po una dichiarazione di facciata o ci sono delle cose che ti hanno mostrato che hai visto che hai detto cacchio sì allora michele bellissima domanda io non ho mai nascosto e mai nasconderò eventuali come posso dire opinioni su federazioni perché sono posti in cui ho lavorato o mi sono esibito o mi sono formato per cui ognuno ha l'opinione che ha tanti anni fa quando la viva era appena nata ma anche io muovevo i primi passi la viva era un ambiente assolutamente poco professionale cosa rende un ambiente poco professionale unicamente le persone coinvolte e maggiormente le persone che gestiscono quell'ambiente detto questo a distanza di tanti anni dopo che ho preso le distanze e rifiutato ogni genere di contatto con molte federazioni italiane proprio perché l'estero è così gratificante per cui tu decidi di collaborare non tanto con le federazioni ma con la persona che c'è dietro alla federazione per cui può essere non so la rising sun piuttosto che un'altra federazione proprio perché il promoter è onesto e quindi ti dà fiducia e mantiene la parola data mi è stata fatta questa proposta ti dico la verità che io avevo programmato una giornata al mare nel giorno in cui ero stato invitato a quello spettacolo per cui io ho dato tutte le mie richieste e ho detto non cederò di un solo centimetro se mi volete tanto alla fine sarà un match 10 15 minuti e mi levo dalle scatole se mi volete queste sono le mie condizioni cosa è successo che l'organizzatore che mi ha chiamato mi ha detto guarda c'è anche shock qui che è una tua vecchia conoscenza ricordo appunto un match uno show organizzato da te dove io e shock ci siamo messi le mani addosso per bene e quindi ho detto shock comunque al di là che sia un pezzo di immondizia è un lottatore bravo insomma è un lottatore che ci sa fare se shock si esibisce lì e shock allena quei ragazzi probabilmente il livello dovrà essere salito mi hanno riproposto un match con shock e visto che allo show che abbiamo fatto da te con la fra poco tanto tempo fa mi ha praticamente rotto una spalla avevo voglia di ricambiare il favore quindi una volta accontentate le mie richieste esigenti o meno che siano garantitemi un match di primo livello noi siamo partiti mi è stato anche detto che era stata cambiata drasticamente l'organizzazione c'è questo nuovo ragazzo che si chiama michael che è quello che sta gestendo la tra virgolette messa in onda è quello che fa le riprese è quello che scrive le storie eccetera 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 ho conosciuto questa persona mi ha scritto quello che era la sua idea per il mio utilizzo all'interno della federazione io non gli ho dato minimamente retta perché non domani quando uno mi manda gli scritti in anticipo io non li leggo non mi interessa voglio vedere di persona a me basta che uno mi dica due parole e io so già come muovermi ma il feeling che abbiamo avuto e la connessione su dove muoverci soprattutto dopo lo show perché prima dello show non c'è stato modo di parlare tanto è stata immediata e sostanzialmente ho lasciato lo show della viva con un piacevole sapore in bocca dicendo beh qui qualcosa è cambiato quando sono stato invitato al secondo show quello dove ho vinto la cintura in cui mi è stato presentato un'ottica e una prospettiva più grande e soprattutto una volta che ho dato dei consigli e che ho espresso il mio parere sono stato ascoltato sono stato invitato per un seminario per allenare i ragazzi mi è stato detto fabio red abbiamo bisogno di te vogliamo muoverci in una nuova direzione ho detto beh qui qualcosa è cambiato e quando mi sono esibito in viva molti mi hanno scritto dicendomi ma red cosa ci fa in viva la viva è era una federazione schifosa non meritava niente prendono in giro i lottatori della viva in tutta europa e anche in america conosco lottatori americani che guardavano i vecchi match della viva per ridere perché erano match ridicoli e io beh io ero uno tra questi ma adesso ragazzi le cose sono cambiate ricordatevi che red scorpion è come una lucciola quando vedete le lucciole vuol dire che l'aria è pulita e quindi così è stato e ora che sei campione di questa federazione hai sulle spalle non solo il peso della cintura ma anche quello di rappresentanza quindi la domanda è la difenderà in italia all'estero anche in altre sigle e qualcuno si chiede quando hai delle cinture credo che tu ne abbia due al momento almeno così mi hanno scritto cioè c'è una rapporto interfederazionale per decidere se quali difendere oppure vabbè vai se sai che vinci la difendi oppure se no si fa finta di niente ottima ottima domanda lì dipende tra ripende dal rapporto tra le varie federazioni esempio prima hai menzionato il napoletano cioè il wrestling in area napoletana quindi ippolito lui è stato il primo a scrivermi dicendo io e la viva abbiamo un ottimo rapporto vorrei organizzare uno show a inizio ottobre mi piacerebbe che tu difendessi la cintura qui da noi quindi cosa succede io sono il campione e sono obbligato a difendere la cintura dove vengo chiamato quindi se il responsabile della viva si mette d'accordo col responsabile della federazione x y e le mie richieste vengono esaudite quindi ho la data libera e vengo spostato da un posto all'altro ovviamente la cintura ti dà un certo come posso dire obbligo di impegnarti non posso dire beh il mio compleanno non difendo la cintura quando vinci una cintura se vieni chiamato a difenderla anche la sera prima se non hai altri spettacoli tu la devi difendere perché il titolo può essere messo in palio e soprattutto il gestore della federazione che decide quando deve essere messo in palio e in che contesti quindi può dare anche il via libera altre federazioni non è raro ad esempio sempre ippolito che gli piace avere questi match particolari con cinture provenienti di un po da tutta europa mi ha fatto difendere il titolo dei pesi medio massimi vinto in germania allo show di napoli con la cornice del vesuvio e lui voleva tot match con dei titoli per raccogliere le migliori cinture che c'erano in giro quindi non è raro che anche se la cintura l'hai vinta in viva tu possa difenderla sia in italia che all'estero se le federazioni trovano un accordo ora metto insieme due domande una che ho sul server discord e una di seven find che metto a video allora sul server disco chiedevano come fa un wrestler italiano a sviluppare il proprio personaggio senza degli show continuativi o magari senza l'aiuto della tv e seven find invece qua in chat va sulla stessa derivazione dice quando ti ingaggiano cioè vai a fare il wrestler tu sei molto riconoscibile perché è una maschera sei un super eroe tra virgolette ma cosa si fa x contro y oppure si cerca in qualche modo di dare una storia al match un piccolo storytelling anche se ci sono mille difficoltà c'è una piccola storyline scusa come funziona pronto viene a lottare contro shock e va bene si fa tutto sul nome degli atleti o c'è la possibilità di creare anche qualcosa di aggiuntivo allora è il tutto e il contrario di tutto quindi devo dare una piccola spiegazione a queste due bellissime domande allora per quanto riguarda la cura del proprio personaggio beh bisogna desiderare che il personaggio emerga quindi al seminario quando parlavo con i ragazzi gli dico gli dissi quanto tempo perdete a parlare con voi stessi davanti allo specchio quanto tempo perdete a dire delle stupidaggini a improvvisare delle frasi a creare dei manierismi quanto tempo dedicate a questo eventuale personaggio la possibilità di emergere perché se non lo fate la possibilità che emerga non c'è mi rendo anche conto che ovviamente come è stato specificato senza spettacoli è difficile e se solo uno riuscisse a mettersi nell'ordine di idee di non arrivare già con tutto quanto pianificato ma di salire sul ring e ascoltare il pubblico a me piace tantissimo improvvisare sia il promo che gli incontri e se il pubblico risponde in una certa maniera le parole te le tirano fuori loro ed è la tua personalità che si mischia con la loro e a modena è successo esattamente questo c'erano dei fan che sono venuti dalla fiera di modena al secondo spettacolo proprio perché si erano divertiti tantissimo e l'accoglienza io feci il primo match della serata è stata esagerata e quindi non c'era bisogno di avere niente di scritto io ho preso il microfono e ringraziato il pubblico e dissi quello che volevo volevo un match per il titolo e in base alle loro reazioni sono uscite battute frasi serie minacce al potenziale avversario promesse al pubblico perché io non combatto solo per me stesso se io sono lì è perché è una promessa a me stesso ma una promessa anche al pubblico devo adempiere a una promessa sono lì per vincere vincere per tutti non solo per me stesso e quindi bisogna essere naturali e molte volte farsi guidare quindi questa secondo me è la una delle chiavi e sto iniziando a capirlo adesso dopo 15 anni di combattimenti quindi e che vi piaccia o no ci vuole tempo o veramente tanti 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 incontri e per fare tanti incontri che vi piaccia o no lo ripeto ci vuole tanto tempo per quanto riguarda invece lo storytelling eventuale una un'eventuale storia del match molte volte succede ma molte volte no ti dico subito che il match che si è svolto tra me shock non era previsto io sono uscito quando shock ha vinto il suo incontro e abbiamo deciso di vedere la reazione del pubblico perché lo show essendo riprese televisive durava da due ore e mezza quindi io sono uscito col microfono e ho detto beh possiamo fare il match la prossima volta come dovrebbe essere o se il pubblico ha ancora voglia di vedere un altro incontro potremmo farlo adesso e lanciai una provocazione a shock dicendogli a meno che tu non sia troppo stanco per poter sostenere un incontro con una persona che apparentemente hai già battuto ecco lì lui è andato giù di testa dimenticandosi che aveva già disputato un incontro mi è bastata una falconarro da lì non si è più alzato e io ho vinto la cintura quindi si è svolto proprio in questa maniera quindi la narrativa si sviluppa in diretta mentre c'è lo show il più delle volte anche perché effettivamente è anche difficile almeno lo dico da ex organizzatore che un pubblico che non è quello di una base geografica sulla quale stai proponendo tanti show conosca quello che c'è dietro o chi sono da zero i lottatori quindi devi un attimo cercare di raccontargli qualcosa anche al di là delle cose legate alla tv anche che gli aiuti a comprendere da subito i ruoli e un po' come schierarsi ora io non so quanto potrai stare con noi perché avevamo detto una mezz'oretta e so che ti devi allenare quando siamo a ridosso dell'ora della tuo addio parziale fammelo sapere una cosa importante però che voglio dire adesso cioè che voglio farti dire adesso è quali sono i prossimi show così visto che abbiamo anche un picco di spettatori magari qualcuno sente di ciò cacchio c'è un prossimo show che è vicino a casa mia mi organizzo quindi per vedere il red scorpion campione italiano viva quali sono i prossimi eventi che ha in calendario allora devo andare un attimo a memoria però il prossimo evento il più vicino è il giovedì prossimo quindi è un infrasettimanale a riva ligure con la federazione italiana wrestling a riva ligure sarà un gran bell'evento con una cornice bellissima vicino al mare sappiamo già che ci sarà un gran pubblico poi dovrò partire per l'ungheria quindi lì non potranno esserci fan italiani tornerò indietro e ripartirò nuovamente per l'ungheria per altri due spettacoli quindi partirò la settimana prima dopo lo show arriva ligure per l'ungheria tornerò a casa e ripartirò per l'ungheria per altri due show tornerò indietro l'inizio di settembre al momento è vuoto ma da metà settembre ci saranno altri spettacoli da inizio ottobre ci saranno due spettacoli probabilmente nel bolognese a fine settembre dimenticavo ci sarà un evento di beneficenza con la rising sun la cw la milano wrestling federation sempre a mi sembra pero comunque e quindi ci sarà la possibilità per chi è in quelle zone lì di vedermi poi dovrebbe esserci uno show a napoli poi dovrebbe esserci uno show in austria insomma di date ce ne sono tantissime c'è da capire che c'è da vedere come si muoverà la situazione covid sicuramente i due show più vicini saranno riva ligure a ottobre bologna il bolognese e a settembre mi pare torino e di nuovo pero e quindi la zona del milanese perfetto tra l'altro c'è qualcuno che dice che fra qualche settimana deve andare a budapest e dice dove quando e dove si tengono gli eventi non so magari mi sembra che uno show sia la domenica 22 a budapest e poi ce ne saranno altri due uno il 28 e uno il 29 il 28 a budapest il 29 in una città vicino budapest poi seguendo i social di red scorpion per le varie indicazioni precise sicuramente qualcosa lo pubblicherà anche se in tono minore probabilmente perché difficilmente ci saranno italiani che faranno la trasferta sino a budapest per vederlo in francia michele ti devo dire sono rimasto sorpreso c'era un gruppo di napoletani perché un lottatore francese italo francese aveva i parenti napoletani e sono venuti a vedere lo show era un bel gruppo nutrito di 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 parenti napoletani e quindi ci siamo sentiti tutti un po un po a casa e abbiamo mangiato le baguette non la pizza ma abbiamo fatto finta che sia pizza ok allora domanda banale ma non del tutto quando vai ad uno show ti viene pagato anche il viaggio devi organizzarti tu allora bella domanda di solito quando uno viene chiamato per uno show gli viene mandato il biglietto aereo o il biglietto del pullman o il biglietto del treno e quindi te trovi via mail a mano a mano i vari biglietti che si accumulano non è raro per esempio che magari l'organizzatore ti dica se hai la possibilità compra i biglietti nell'orario che preferisci arrivare basta che arrivi entro quell'ora e poi conserva la ricevuta che ti trasferiamo il denaro e molte volte è comodo così perché l'organizzatore ti dice io ho bisogno che tu sia in aeroporto entro mezzogiorno quindi scegli tu l'aereo che preferisci perché molte volte l'organizzatore non sa che tu devi prendere la macchina da bologna e andare a prendere il volo a bergamo quindi non può prenderti un volo alle sei di mattina che arriva alle otto ma potrebbe prendertene anche uno alle dieci che arriva a mezzogiorno e quelle ore lì sono fondamentali per prendere la macchina arrivare a milano quindi molte volte gli si dice ci penso io ci mettiamo a posto dopo ma sono è la minoranza quella diciamo che quando inizi a fare wrestling soprattutto in italia almeno queste sono informazioni di una vita fa avere un rimborso di spesa è molto complicato all'inizio anche se non è del tutto corretto quello che ti preme è lottare quindi cerchi di lottare di mitigare le spese del promoter perché facendo show di wrestling in italia spesso è difficile andare alla pari e chiudere senza avere passivi ovviamente la cosa non è eticamente corretta c'è un lottatore rischia la salute si allena si prepara è uno mestiere non è un hobby e quindi i viaggi per uno che lo fa con questa idea sono pagati può esserci proprio all'inizio quando devi maturare esperienza una sorta di commistione di accordo con i promoter dicendo ci veniamo incontro io intanto però il premio che maturo con l'esperienza nel ring che magari non farei una volta che superi una certa soglia di capacità chiaramente il viaggio deve essere assolutamente e completamente retribuito altrimenti il promoter non è serio altrimenti il promoter è uno che vuole sfruttarti e basta sul server disco mi chiedono ne parlavamo qualche giorno fa vorrei la tua opinione al riguardo quando i wrestler indie chiamiamoli indie italiani europei combattono mostrano veramente il massimo del loro potenziale o si devono limitare nell'aspetto tecnico dal loro personaggio o dall'allineamento morale che devono in qualche modo portare nel ring cioè è un indie alla nxt dove tutti fanno tutto e mostrano la profondità del proprio repertorio oppure l'il deve stare un po' attento a non rubare la cena con le mosse tecniche oppure il personaggio vanitoso deve continuamente fare riferimenti coi mannerism a ciò che rappresenta bellissima domanda diciamo che ci sono due fazioni due fazioni che adesso si muovono e che si miscelano proprio perché rimane il wrestling vecchia scuola tra virgolette ma c'è anche il wrestling e metto sempre le virgolette perché il wrestling è sempre wrestling il wrestling moderno quindi io appartengo orgogliosamente alla vecchia scuola mi piace avere un contesto nella card fare quello che il contesto nella card richiede e soprattutto io dico sempre una volta che mangi un piatto di pasta togline una cucchiaiata e metti la via così ti rimarrà la voglia di mangiare quella pasta perché le lasagne sono buone ma se ne mangi tutti i giorni un piatto e mezzo dopo un po ti rompono le balle quindi se uno ogni volta sale sul ring e non dico che dai il massimo perché per dare il massimo è tutta una questione di selling di essere attivi di striking di come posso dire di energia ma molte volte quell'energia manca in tanti lottatori che fanno solo una sequenza e una sequella di mosse e aggiungono senza una base senza una storia e la canadian destroyer e il moonsault e questo e quello eccetera 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 ti racconto una storia a costo di sembrare arrogante se ci sono dei wrestler che guardano ma non me ne frega niente perché con questa cosa ci devono convivere quando andai a combattere a napoli si discuteva con michele ippolito e michele ippolito è uno a cui piace tanto provocare i lottatori e lui mi disse caro il mio red scorpion va bene che sei il lottatore di punta nella locandina ma sappi che il pop maggiore della serata lo prenderà un altro lottatore mascherato che mi sta molto simpatico che si chiama picchio rosso mettiamola così e io e io gli dissi mi dispiace non sarà così e lui mi fa sì ma picchio rosso fa molte più mosse di te e io gli dissi va bene io ti dico che il pop della serata ci sarà durante il mio crossbody fine andrà così e basta e lui disse va bene se sarà così io ti offro una birra quindi per arrivare a quel crossbody c'è stato del selling ci sono state delle mosse c'è stato un contatto visivo col pubblico c'è stata la cintura ci sono stati dei pugni c'è stato un combattimento c'è stato del sudore morale della favola ho eseguito il crossbody sono andato negli spogliatoi sono andati in albergo mi sono fatto la doccia sono tornato senza la maschera perché a me piace mescolarmi tra il pubblico dopo il mio match quindi il pubblico non lo sa ma io potrei essere seduto accanto a loro è arrivato ippolito con un bel bicchiere di birra fresca e mi ha detto red avevi ragione e io gli dissi io già lo sapevo non era una canadian destroyer non era un moonsault non era niente di quello e tutte quelle mosse io le potrei fare tranquillamente chiunque può imparare delle mosse tutti possono imparare delle mosse ma essere un lottatore di wrestling è una cosa completamente diversa è il lottatore che rende speciale la mossa per cui il mio crossbody è veramente speciale e ogni volta che lo eseguo il pubblico impazzisce ed è solo un crossbody questo per dirti esattamente come la penso e come cerco di portare avanti le cose addirittura ho un bel rapporto con tanti altri lottatori mascherati europei che eseguono molte più manovre di me ma perché sono dei lottatori a cui piace quello stile magari si sono allenati in messico che mi chiamano mister best crossbody ever anche se magari non è il miglior crossbody può essere anche che non sia il migliore però loro sanno che ne vado fiero e che ottengo le reazioni che voglio con quel crossbody dall'altra parte ci sono dei lottatori a cui piace eseguire delle mosse lo fanno per loro per ritagliarsi le loro i loro video metterli su instagram che va bene va bene così ormai c'è questa totale divisione e questa eh divisione sì ma anche questo miscelarsi di questi due stili io posso dirti che ancora oggi ragionare un po' di più sulla storia e sulla connessione del pubblico da i suoi risultati anche senza rischiare più di quanto già lo facciamo l'osso del collo qui ti vogliono mettere in difficoltà e dicono red tu eri nell'open era facile picchio era il penultimo match i fan erano stanchi che gli diciamo e hanno ragione ma la morale della favola è i fan non si stancano se ognuno fa esattamente quello che deve fare perché le maggiori reazioni dell'incontro le hanno avute e che ai lottatori vada o bene o no possono venire a incontrarmi negli spogliatoi e dirmi esattamente come la pensano non me ne frega niente la migliore reazione dello show l'hanno avuta il primo match e il main event quindi il pubblico non era stanco semplicemente quello con questo non sto dicendo che picchio rosso non sia un buon lottatore mi sono sentito di fare ciò che ogni lottatore dovrebbe fare difendere il suo onore e credere di essere il migliore punto beh insomma molto interessante questa questa analisi quindi si sposa bene a quello che io vi ho sempre detto nel senso che le mosse sono un tramite per raccontare la storia non solo la storia sono un tramite che si aggiunge a tante altre cose ma non devono sovrabbondare il resto che vuoi trasmettere detto questo mi scrivono oggi hai parecchi allievi molto bravi questo è un testamento alla tua preparazione come allenatore nico narciso vp dozer lion eccetera il fatto che ora hai tanti allievi che possono anche darti una mano eventualmente come istruttore o affiancarsi a te ti sta aiutando a concentrarti di più sulla tua carriera e meno sull'allenamento oppure l'allenamento rimane il paracadute perché se gli show si fermano comunque puoi fare l'allenatore guarda in questo esatto periodo storico questa domanda questa affermazione mi viene da dire è totalmente esatta perché nell'ultimo periodo io ho lasciato l'accademia in mano a nico narciso e lion che stanno svolgendo un lavoro impareggiabile per una semplice questione per poter salire di livello tu devi essere disposto a cedere il passo devi essere disposto a cedere qualcosa quindi se io volessi mantenere tutti i piedi in tutte le scarpe non sarebbe possibile salire di livello togliendo mio dall'equazione per un breve o lungo periodo do la possibilità ad allievi che hanno guadagnato la mia fiducia di farsi una carriera un' esperienza come allenatori dando a me la possibilità di cercare nuovi contatti palcoscenici più importanti dove portare gli allievi più meritevoli che meritano visibilità detto questo storia importantissima lion ha fatto un match sabato abbiamo combattuto è stato un match molto sportivo io e lui allo show di modena dove sono riuscito prendendolo per una sua debolezza ovvero gli schienamenti perché lui è grande e grosso ma una volta che riesce a incastrarlo lui è fortissimo ma una volta che lo sfianchi e lo tiri giù col fiato inizia a barcollare come i tori alla corrida quindi è stato un incontro molto sportivo ci siamo stretti la mano quando sono tornato negli spogliatoi io stretto la mano di nuovo gli ho detto non ho niente da dirti e lui mi ha guardato negli occhi e fa in sei anni non me lo hai mai detto sono passati sei anni e forse ora lui ha iniziato a capirci qualcosa sono passati 15 anni e forse ora io ho imparato ad ascoltare il pubblico è un processo lungo per poter capire sempre di più devi essere disposto a lasciare qualcosa indietro o a lasciare qualcosa a qualcun altro il fatto che lui ora sappia qualcosa in più è perché probabilmente ha preso il mio posto come allenatore e ha capito cosa vuol dire colmare quelle piccole mancanze che magari da allievo lui non riusciva a vedere ma adesso vedendole in altri allievi lui le capisce in se stesso e la qualità del suo lavoro sul ring come nico narciso come vipidozzere come tanti altri è drasticamente migliorata quindi lo ripeto certe volte tenere tutto in pugno voler essere l'allenatore voler essere sto gran paio di chissà che cosa non serve a niente bisogna essere capaci di lasciare andare di gestire di reindirizzare è ovvio che è difficile perché è una cosa che ho creato io questo non vuol dire che io non sono più l'allenatore del bologna wrestling team io alleno magari alleno i ragazzi più esperti e mi faccio vedere dai ragazzi più giovani perché so che ci tengono perché molti vengono perché sanno che le scorpio nell'allenatore ma vengono anche perché l'io nell'allenatore perché vipidozzere l'allenatore perché nico narciso è l'allenatore e a loro volta loro hanno le loro fan base ma lo ripeto certe volte bisogna lasciare che qualcun altro prenda il tuo posto così che tu possa fare un salto di qualità visto che sei il best crossbody ever qua ti chiedono cosa ne pensi di quello di Nicky Esch che aspetta che l'avversario si rialzi per eseguirlo beh devi aspettare che l'avversario si rialzi se no non è un crossbody forse non so a Giza Olic piace poco non ho idea o vuole un tuo parere tecnico mi farò frustare sulle mani non conosco Nicky Esch non c'è non so se probabilmente combatte NXT immagino no no è la vecchia Nicky cross che è cambiato personaggio ma se sei stato impegnato in tutti questi eventi immagino quella che è quella che faceva la gimmick della pazza esatto che adesso fa la supereroina ha cambiato però io non conosco il suo crossbody ma immagino che lavorando per la WWE debba essere veramente buono allora ti chiedono quale dei tuoi allievi ha il personaggio più vendibile in Italia e fuori a questo punto chiaramente anche perché ritieni quel nome più vendibile allora mettiamola così sono tutti particolari da un punto di vista prendiamo questi tre personaggi Nico Narciso V.P. Dozer o lo chiamiamo a volte Vincenzo Napoleone o Vincenzo Garibaldi insomma Vincenzo Bonaventura insomma tutti sti nomi qua oppure Leon da un punto di vista assolutamente personale senza voler togliere nulla a Nico Narciso V.P. Dozer e Leon sono più adatti al mio personaggio perché sono grandi grossi e cattivi e soprattutto un po' scuri e si sposano bene con i miei colori se tu prendi V.P. Dozer che interpreta il personaggio di Vincenzo Garibaldi ecco lui è vestito come Garibaldi con il tricolore e quindi all'estero potrebbe essere vendibilissimo però ti dico che probabilmente quello che lavora di più all'estero è Nico Narciso perché a livello di standard e di stereotipo è un lottatore alto un metro e 90 87 capelli lunghi biondo slanciato e quindi è un bel ragazzo e quindi lui può interpretare tranquillamente sia il baby face che lo snob Narciso quindi in realtà tutti questi personaggi funzionano bene anche Leon che adesso si è costruito il personaggio del brutto all'abbraccio di ferro quindi grande grosso vestito di nero ti prende ti spezza le ossa e quindi ripeto fuori ho visto tutti e tre esibirsi fuori hanno tutti una bellissima collocazione poi ovvio Nico Narciso magari essendo così slanciato sta bene con altri lottatori slanciati per eseguire determinate manovre io vado bene con lottatori più piazzati perché sono più agile e ho dei colori più brillanti mettiamola così. Senti chiudiamo la nostra intervista perché se no non ti faccio più andare ad allenare e a me piacciono le storie ce ne raccontate un po' di Napoli del del pop eccetera ma quando hai ripreso a lottare in queste settimane dai raccontaci un po' di roba stravagante di casinico viaggi di discussioni backstage sono le cose più belle dai è vita chissà quanta roba ti è successa. Allora allora vediamo un po' cosa riesco a tirare fuori una cosa che che mi fa sempre ridere è come ho messo in difficoltà il povero Ippolito l'organizzatore napoletano perché ogni lottatore ha le sue fisse io per mantenere questo stato di forma devo mangiare pollo insalata bene sappiate che a Napoli il pollo non esiste non ci sono polli non c'è pollame quindi mi ricordo che la mattina uscì dall'albergo insieme a Gianni Valletta che è un mio caro amico uno dei miei migliori amici ed è un lottatore maltese che combatte in All Japan allenato da Tajiri quindi un signor lottatore e andammo in cerca di un posto perché anche lui ha lo stesso problema con la dieta ce l'abbiamo tutti andammo in cerca di un posto dove mangiare del pollo e quindi girammo in lungo e in largo per queste viuzze fermandoci ogni due metri chiedendo ai vari personaggi che trovavamo dove fosse una rosticceria ecco c'era una rosticceria ogni 15 passi ma non aveva del pollo quindi ragazzi per favore sapete indicarci una rosticceria uè sì guaglio viene qua mangi qua ci sta tutto quello che vuoi benissimo mi sarebbe bastato anche del pollo fritto c'era tutto che il pollo il pollo a Napoli non esiste abbiamo girato due ore a un certo punto chiamati ippolito io ho detto per favore portami del pollo con l'insalata ce l'avrete un conad un lidl comprate dei petti di pollo con dell'insalata un'ora e mezza dopo arriva la chiamata di ippolito e fa red quanto pollo vuoi e io gli dissi boh siamo tre quattro lottatori anche se loro vogliono non vogliono mangiare il pollo lo mangeranno anche loro portamene due chili ed è arrivato ippolito con queste bustine di pollo e insalata con queste posatine di plastica con una faccia completamente inorridita perché quel pollo non era fritto e non era unto d'olio e la prossima volta fa il pollo te lo porti da casa perché qua a Napoli non esiste quindi quella realmente la preoccupazione non era il match non era difendere il titolo era cercare il pollo da mangiare e ci abbiamo messo quattro ore ma ce l'abbiamo fatta quello è stato è stato pensavo rispondersi portateci tutto l'allevamento perché siamo tre wrestler affamati oppure altre altre storie altre storie carine è sempre io lo dico sempre un wrestler avrà sempre sonno avrà sempre fame e gli mancherà sempre la carta igienica questo è un problema ricorrente per tutti i lottatori dove vai vai non c'è da mangiare non c'è da bere può succedere quello che deve succedere non avrai dormito e quando andrà in bagno non ci sarà mai la carta igienica quindi regola vuole che un buon lottatore di wrestling soprattutto vecchia scuola possa togliere tutto dalla valigia ma non tolga mai la carta igienica perché è veramente un problema quando ti trovi dall'altra parte dell'europa seduto sul water e ti giri alla tua destra e la carta igienica semplicemente non c'è non c'è neanche il barattolo di cartone non c'è proprio la carta igienica questa è una vecchia cosa che riguarda anche i telecronisti anche per gli scena italia affitti la palestra vai al bagno non c'è la carta igienica quindi aggiungerò ulteriore autorità ciò che hai detto anche noi telecronisti in borsa quando lavoravamo col wrestling italiano rotolo di carta igienica vicino la giacca non può mai mancare esatto Michele esatto oh mamma mia oh mamma mia senti io non so qua se sta roba è vera o se insomma buttata lì vogliono fare una donazione alla tua scuola come si fa non lo so Anthony Cuomo vuoi farla davvero o ci sta introllando no si può assolutamente fare mi possono contattare in privato perché il bologna wrestling team ha un account paypal dove si può fare una donazione assolutamente non è la prima volta che succede le società sportive sappiatelo lavorano molto con le donazioni soprattutto se sono società sportive direttantistiche non è raro che abbiano delle donazioni ovvio le ricevono molte volte da enti costituiti che possono essere supermercati piuttosto che istituzioni istituzioni locali ma anche i privati possono sostenere le federazioni italiane e i wrestler italiani assolutamente sì quindi Anthony visto che hai scritto che la vuoi fare davvero ecco come fare bologna wrestling team che è la diciamo la grande cappa il grande tetto sotto il quale lavora red scorpion può scriverci su instagram oppure scrivi loro su instagram o a lui direttamente ti darà le istruzioni a questo punto ti faccio io una domanda un po' urticante tanto cioè siamo qua so che tu rispondi a tutto senti da quanti anni c'è il bologna wrestling team da tanto allora se non vado errato dovrebbe essere stato costituito nel 2012 fra poco quasi dieci anni in maniera non ufficiale anche uno due anni prima perché ci allenavamo in un garage senza nessuna come posso dire senza nessun riconoscimento poi arrivò il presidente massimiliano malpensa e disse riconosciamo questa realtà quindi più di dieci anni ora posto che io quando ho avuto che fare col bologna wrestling team ho sempre avuto ottime esperienze quindi posso parlarne solo che bene non ho mai avuto rogne o incomprensioni in questi dieci anni circa non credi che abbia lavorato ottimamente a livello preparatorio per gli atleti ma forse in maniera un po' troppo insordina nell'organizzare eventi magari non è la finalità del bologna wrestling team però in dieci anni generare un territorio dove puoi fare dieci quindici show all'anno venti sotto la tua bandiera magari venti sono tanti ma dodici ecco io non ho visto questo progresso ho visto i progressi di show dove gli atleti vanno ma ma non un qualcosa di interno c'è un lavoro su questo oppure effettivamente il focus non è mai stato quello e vi interessava fare altro michele hai perfettamente ragione e non mi tiro assolutamente indietro da questa domanda ti dico in maniera fuori dai denti il bologna wrestling team è un'accademia e quando vedi che il bologna wrestling team organizza degli show è sempre perché qualcuno li richiede quindi la sagra piuttosto che la fiera piuttosto che come l'altra volta la birreria dove siamo andati eccetera 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 quindi di tendenzialmente il bologna wrestling team non organizza show ma prende quelli che gli vengono offerti per far esibire i propri allievi diversa è la wrestling mega stars che prima del covid ha tirato fuori quattro show veramente grossi dove ha radunato più di 800 persone per ogni show dove nei cosiddetti show tra l'altro no anche più grandi ci sono venuti rob andam chris masters stagiri ultimo dragon e carlito e tanti tanti altri ed è proprio questo il motivo perché con la wrestling mega stars noi possiamo organizzare degli show coinvolgere lottatori da fuori e i migliori allievi del bologna wrestling team gli show del bologna wrestling team sono in maniera un po' più frequente come dei saggi di fine anno quindi dove tu fai esibire un po' tutti per fargli fare esperienza c'è un grande abisso fra il bologna wrestling team e la wrestling mega stars sia a livello di produzione che di show che di match che di palazzetti che di copertura di giornali o mediatica quando si organizzano show è ovvio che gli show della wrestling mega stars che sono stati organizzati magari non sono stati numerosissimi uno ogni quattro mesi uno tre ogni tre mesi ma sono stati show veramente veramente grossi vi dico che per portare rob van damm ken kennedy e christmasters in italia più i migliori lottatori d'europa in una cornice come l'estragon di bologna e poi spostarsi a milano al teatro principe con tagiri e poi riprendere il tutto a forlì e poi spostarsi a imola a imola per ben due anni consecutivi quindi insomma sono stati un anno con christmasters un anno con ultimo dragone a forlì due anni consecutivi no quindi in realtà stavo deprezzando quello che è successo abbiamo fatto show molteplici e anche a bologna dove abbiamo fatto la coppa della coppa delle due torri con i migliori lottatori europei quelli sono veramente dei lavori in mani e sono show che richiedono diverse 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 migliaia di euro in questo modo però mi viene anche da dire che mi viene da lanciare in senso buono una provocazione eh al nostro presidente che è massimiliano malpensa a cui voglio molto bene ma entriamo sempre in discussione perché secondo me si potrebbe fare molto di più con il bologna wrestling team non con la wrestling megastars quella eh si è fatto molto ma con il bologna wrestling team si potrebbe fare molto di più se mi vedete molto spesso fuori è perché fuori io ho molta più possibilità di esprimermi sia con le mie idee e con chi ha eh come posso dire la testa proprio concentrata lì nell'organizzare spettacoli ovviamente e chiudo dicendo che ognuno fa il massimo che può quindi ogni federazione sostanzialmente è gestita da persone che molte volte te lo sai bene Michele lavorano hanno famiglia e molte volte se lavorano hanno possono avere anche i dia lavori importanti come malpensa che deve gestire tantissime persone quindi molte volte capita che con malpensa non ci si senta neanche per due settimane e poi dopo ci si senta la terza settimana per fare il punto della situazione ecco è troppo poco bisogna sentirsi tutti i giorni bisogna fare cose tutti i giorni ed è la differenza giustamente eh di punti di vista ma finché si tratta del bologna wrestling team va bene l'importante è che l'accademia funzioni e che gli allenatori siano pronti quando si parla di wrestling megastars è tutta un'altra questione e ci vuole sicuramente più tempo per organizzare grandi eventi quindi un po' di dilazione può andare anche bene mettiamola così ora Alessio mi segue da un po' di tempo io sono molto scettico sul futuro a lungo tempo del wrestling eh nel lungo periodo perché il mondo dell'intrattenimento continua a cambiare a proporre cose tecnologicamente avanzate il wrestling invece storicamente è un ring una storia una straordinaria eh messa in scena degli istinti primordiali dell'uomo attraverso degli archetipi che si danno battaglia con una grandissima preparazione sportiva alle spalle però per me è un ambiente che tra venti trenta forse quarantacinquant anni dovrà cedere il passo tu sei così pessimista come me oppure la vedi in modo differente ma guarda Michele io non mi concedo il tempo per il pessimismo in questo caso la vedo in maniera tra virgolette molto più egoistica mi piace mi piace lo faccio faccio in modo che tutti quelli che attraversano la strada e mi vedono e vogliano scambiare o meno due parole con me capiscono che io sono una persona diversa e che faccio qualcosa che mi rende veramente molto fiero lo dico sempre a tutti i seminari e a tutti i miei allievi e lo ripeterò sempre e in eterno molte volte la gente pensa che il wrestling italiano sia poco rispettabile sia poco rispettato e mi chiedono per quale ragione e io dico sempre se vogliamo che il wrestling italiano sia più rispettato i lottatori di wrestling italiano devono diventare più rispettabili allenatevi di più esponetevi di più parlate di più investite di più in voi stessi e vedrete che comunque anche se l'affluenza del wrestling in generale o l'interesse del wrestling in generale perché comunque io non so quanti telespettatori seguono i programmi wwe su su di max però sono certamente diverse migliaia però ovviamente io dico sempre non sono i numeri che c'erano negli anni duemila e ne siamo ben consapevoli ecco quelle persone i diversi milioni di italiani ci sono ancora sono ancora là fuori e possono e potrebbero essere fan di wrestling e l'unico modo per raggiungerli è non vedersi solo ed esclusivamente come dei lottatori di wrestling che combattono in questa nicchia perdonatemi il termine merdosa metto le virgolette dove si guardano sempre i stessi siti di wrestling e le stesse interviste sono sempre le 150 persone che scrivono io non mi considero un lottatore di wrestling io mi considero un personaggio pubblico voglio avere a che fare con altri personaggi pubblici voglio essere visto come una persona che dà spettacolo se voi andate a vedere i miei social network ricevo saluti da influencer piuttosto che da comici piuttosto che da cantanti piuttosto che partecipare a trasmissioni televisive non faccio resto intanto per fare wrestling faccio wrestling per essere un personaggio pubblico se tutti i lottatori lo dicevo al seminario l'altro giorno si mettessero in questo ordine di idee ci sarebbe molta più esposizione e si potrebbero raggiungere tutti quei fan che magari non sanno neanche che il wrestling è trasmesso in televisione o che ci sono dei lottatori di wrestling italiani che hanno due puntini puntini grandi così è facile assolutamente no ma se spostiamo il focus su questo interesse anziché cercare di fare le mosse che ci piacciono tanto e concentrarci su quello che ha scritto il determinato sito di wrestling sul nostro match di wrestling che abbiamo fatto davanti a quelle 100 persone se spostiamo il nostro focus da questa cosa assolutamente inutile e proviamo a raggiungere tutti coloro che magari potrebbero essere potenziali fan del futuro magari e ripeto magari la speranza che il wrestling non vada decadendo negli anni una speranza che non decada c'è quindi preferisco essere positivo preferisco continuare a lavorare preferisco estranearmi dal contesto di essere un lottatore di wrestling io non sono un lottatore di wrestling io sono red scorpione voglio essere un personaggio pubblico e riconoscibile che questa cosa sia chiara guarda red avrei tanto voluto che questo atteggiamento fosse la quotidianità vent'anni fa quando mi impegnavo nelle prime volte col wrestling italiano perché credo che ancora oggi non sia diffuso non sia diffuso cioè purtroppo oggi seguo distrattamente ma pur seguendo distrattamente vedo ancora tanto bismo e non quest'idea del io devo fare quello che facevano in america negli anni 70 80 cioè o chiaramente con le debite proporzioni non solo al kogan larger than life ma posso ritagliarmi un fazzoletto di popolarità anche nella mia nazione d'origine restando fedele all'alter ego che mi sono scelto la selezione dell'alter ego è molto importante perché già lì hai le basi per riuscire a fare qualcosa o no e poi c'è questo sbattimento aggiuntivo che veramente pochi portano avanti parallelo cioè io non sono solo quello che si allena non sono solo quello che combatte nel tuo caso non sono solo quello che ha la sua scuola eccetera cioè io sono sempre red scorpion anche se non ho la maschera cioè io penso come penserebbe red scorpion non come penserebbe fabio che è l'uomo dietro la maschera michele è quello che dice è correttissimo e mi permetto di aggiungere questo sporcatevi le mani ai lottatori che guardano se ci sono lottatori che guardano sporcatevi le mani uscite da da quello che siete abituati a fare io non non avevo e te lo sai bene michele non avevo la minima idea né interesse né ambizione né realizzare dei video youtube eppure nel periodo della quarantena io e te abbiamo collaborato e c'è stata una produzione massiccia di video youtube che mi ha insegnato tanto su me stesso mi ha insegnato tanto sui promo sulle tempistiche su tante cose solo il parlare è red scorpion uno youtuber no ma farà tutto quello che serve per rimanere in vista è red scorpion un professore no però nel periodo della quarantena ho partecipato a delle dad universitarie per quanto riguardava dei corsi sullo sport e sulla legalità dello sport partecipiamo a dei programmi contro il bullismo l'abbiamo fatto in dad l'abbiamo fatta di persona partecipiamo a delle interviste fate delle pubblicità sporcatevi le mani prendete il vostro personaggio e inseritelo in ogni contesto che ritenete giusto o meno ma che possa darvi un po di filo da torcere è ovvio che fa venire le le farfalle nello stomaco quando fui invitato in una classe universitaria a parlare della legalità nel wrestling o come potrebbe essere costituito il wrestling e devi cercare di di vincolarti lì o quando ti vengono date quattro ore per parlare davanti a delle prime medie che vogliono sapere vita morte miracoli e che hanno l'idea di base che il wrestling sia finto sporcatevi le mani dimenticatevi del moonsault dimenticatevi della canadian destroyer parlate con la gente i personaggi più influenti al mondo sono i politici e gli attori loro parlano fanno promesse vi dicono quali sono le loro intenzioni e se dio vuole magari le mantengono un lottatore di wrestling deve fare le stesse cose e ha l'occasione di mantenere subito quello che promette esibendosi sul ring io la vedo così senti ho letto che a breve diventerai anche una figurina o una serie di figurine cosa c'è dietro a questa roba e una collana di figurine emiliano romagnola chiamata la figurine forever ha deciso di creare una linea di figurine sul personaggio di red scorpion per una raccolta benefica e la unì la uniranno con una collana di figurine di una campionessa di box quindi probabilmente e questo si può dire ci sarà un incontro un match predeterminato fra red scorpion un match inter inter gender fra red scorpion e questa boxer campionessa pluricampionessa per alimentare questa raccolta benefica e anche questo è un modo per sporcarsi le mani in maniera diversa io adoro queste cose molte volte anche più che combattere nella maniera tradizionale perché danno una visibilità e una prospettiva diversa riguardo a quello che sei all'occhio di potenziali nuovi fan giorgio gabber sì allora da studente di sceneggiatura e da creativo sarebbe la cosa migliore purtroppo devo dirti la verità ma non ne voglio fare una colpa troppo pesante a chi si è trovato come antessignano nel wrestling italiano nella sua rinascita però purtroppo i primi wrestler che hanno riportato con tanta fatica e sacrifici va aggiunto la disciplina in italia all'inizio degli anni 2000 non la vedevano proprio così perché si rifacevano ad una proposizione del wrestling un po' troppo giapponese quindi basata quasi esclusivamente sulla proficienza atletica e sulle mosse eseguite le figurine si possono comprare credo di sì cilento quando usciranno red scorpion sui social ci dirà come riuscire a metterci le mani sopra no e poi soprattutto andrà il ricavato andrà in beneficenza quindi faremo una grande pubblicità per questa cosa perfetto quindi avremo modo di rimpinguare sapete tutti che io sono un collezionista di trading card i nostri cassetti e chissà magari un domani con le card diremo ma pensate sfogliando l'album dei ricordi eh assolutamente michele non vedo l'ora anzi che il momento arrivi sono molto curioso ovviamente in agosto tutto rallenta un po' soggiate a settembre eh se tutto va bene si ripartirà ancora più velocemente va bene red scorpion io ti saluterei anche perché sei stato qua molto di più di quanto mi hai promesso non vorrei abusare della tua pazienza ti ho fatto anche mettere la canotta e restiamo che a settembre quando magari avrà in avvicinamento un altro questi grossi show di cui ci hai parlato magari facciamo un punto della situazione ci racconti cos'è successo dov'è che andavi a finale ligure ci racconti esatto esatto settimana prossima arriva ligure e fine settembre nel zona milano e poi nel bolognese insomma comunque eh mi ricorderò di pubblicare un calendario aggiornato magari con una bella grafica con i prossimi spettacoli comunque le locandine se seguite la mia pagina instagram vengono caricate settimana per settimana ecco così possiamo seguirti e anche poi ci racconterai ci ragguaglierai se tutte le avventure a cui andrà incontro sai a me cosa piacerebbe tra l'altro arriva ligure quindi diamo il messaggio sai a me cosa piacerebbe lo dico da ormai spettatore distaccato quante federazioni ci sono in italia ormai ci sono tantissime sigle ovviamente tu prima ci hai raccontato della farfalla della falena della che illumina là dove ci sono le cose buone ma sai che è anche difficile oggettivamente oggi seguire il panorama italiano perché ci sono talmente tante cose che uno che vuole appassionarci se io mi metto ai panni di qualcuno qui in chat ma poi non sa più dove sbattere la testa io non so ma nessuno ha mai pensato di dire siamo otto federazioni grosse ormai continuative oltre ad avere ognuna il suo sito ma perché non ne facciamo uno collettivo che aiuta anche l'interscambio tra gli atleti cioè secondo me sarebbe un passo interessante cioè chi se ne frega se un giorno metto in copertina la viva la volta dopo metto la federazione boh di livorno la volta dopo cioè ma intanto tutti vedono che c'è un movimento sai sai michele cosa ti dico io ti dico che l'idea è ottima e ma credo che le federazioni non possano collaborare perché molto semplicemente la federazione molte volte nasce dal desiderio egoistico di un lottatore che si trova male in una determinata federazione si muove si apre verso un'altra federazione per essere il suo campione del pianerottolo o del condominio non ho problemi a dire questo non ho problemi ad affermare questo quello che però è possibile ed è la collaborazione unica che funziona e più storica che ha sempre funzionato nel wrestling è la collaborazione fra il lottatore di wrestling e il promoter laddove ci sarà un promoter disinteressato a salire sul ring ma unicamente interessato a fare selling a vendere lo show ecco che allora potrà chiamare i migliori lottatori di ogni singolo condominio e creare un bellissimo residence con la sigla che più preferisce perché ad ogni dotatore italiano che si rispetti della sigla non gliene frega assolutamente niente l'importante è esibirsi e esibirsi davanti a un buon pubblico possibilmente in salute con la pancia piena e la carta igienica nel bagno queste sono le richieste di base per questo ti dico michele che quello che stavi facendo tu in passato e che successe anche con la fra poco era una persona totalmente disinteressata a cadere a bampare a vincere un titolo ma unicamente interessata a creare personaggi che funzionavano a creare un interesse da parte del pubblico e a creare qualcosa che si potesse sviluppare e districare nel lungo periodo mi auguro che prima o poi questa persona magari deve ancora nascere salti fuori e dica io voglio i migliori lottatori italiani perché che vi piaccia o no 15 anni fa quando andavo a vedere gli show di wrestling negli show di wrestling italiani c'erano 5000 persone e non un singolo lottatore italiano che avesse un fisico decente adesso ci sono 20 lottatori italiani che combattono in tutto il mondo che sono assolutamente riconoscibili e che potrebbero dare filo da torcere ad ogni singolo personaggio europeo ma non c'è una federazione che riesce a richiamare più di mille persone questo è un paradosso incredibile secondo me è una cosa totalmente all'opposto per cui lo ripeto la migliore collaborazione è fra il lottatore di wrestling e il promoter e quando verrà fuori un vero promoter di wrestling allora sì che potrà esserci questa fantomatica sigla e tanti lottatori capaci di esibirsi e di intrattenere un pubblico magari che deve ancora arrivare e deve ancora essere scoperto fra i milioni di italiani che ci sono in italia senti a sto punto mi tiri fuori un'altra domanda anche se volevo salutarti però tu hai ramificazioni in tante realtà quindi te la voglio fare se hai pazienza io ti ho ingaggiato qualche volta e tu hai visto come lavoravo nel backstage cioè purtroppo io non avevo una struttura di tante persone e ci si affidava a tanti lottatori che davano una mano però per ogni match io raccontavo che storia volevo raccontare mi dicesse e chiaramente stava ai lottatori organizzare come raccontarmi quella storia e fornivo anche delle indicazioni sulle mosse che non volevo vedere realizzate perché erano patrimonio degli altri e anche sulle cose che non desideravo venissero assolutamente portate nel match perché se in uno show tutti iniziano a fare sul paletto ti fa me l'altro cattivo va su e giù non va bene quindi io distribuisco in un incontro preferibilmente non il primo perché il pubblico è già contento e distribuisco questa cosa e la piazzo magari sul match dove penso che ci sia un face che ne abbia maggiormente bisogno quindi un tolil che ha più capacità di farsi odiare per farti fare il buono quindi io cercavo di mettere una grande preparazione narrativa e soprattutto di non ciclicità sui match ora non ti sto dicendo che era lo standard ideale giusto perfetto eccetera ma quando poi ho collaborato con altre realtà italiane non ho assolutamente mai visto niente di tutto questo cioè mai zero ora le cose sono cambiate o al di là dell'affetto che si può provare per i promoter c'è una preparazione dello show un po' migliore michele io ti dico onestamente che la memoria che ho di quello show della della fra poco che tu hai organizzato con franchini altre persone è molto piacevole e soprattutto non nego l'imbarazzo che ebbi quel giorno nel leggere lo script e proprio vista la mia poca esperienza non capire molte delle parole che c'erano scritte nel mi ricordo ancora che nel foglio che mi avevi dato c'era scritto no post down al tarbacol e io dissi che cos'è un post down per dirti cioè vista la mia esperienza ma ancora me lo ricordo mi ricordo che tu feci un discorso a tutti che dissi non vi azzardate a bere e a fumare immediatamente prima e immediatamente dopo lo spettacolo non ricordo però però c'era mi ricordo che tu cambiasti le carte in tavola perché un lottatore non si rivelò in grado di adempiere i suoi compiti e quella fu la mia più grande fortuna perché venne premiato due volte quella sera mi ricordo che c'era la televisione per vedere quello che succedeva nel backstage mi ricordo così tante cose positive di quello show e purtroppo ho veramente poche memorie a seguito di quello show di cose simili ma non voglio farne una colpa a le federazioni italiane anch'io potrei far rispettare le stesse regole ma io non sono michele posa io non ho quell'interesse io non ho quel background io non ho quella conoscenza per cui noi facciamo il meglio che possiamo con quello che sappiamo il mio lavoro è combattere e posso provare a dare i consigli migliori ai lottatori per tentare di avere le reazioni migliori non farsi male e non copiarsi a vicenda e so che magari anche le altre federazioni italiane che ci si punzecchiano non è che fanno del loro meglio ma fanno quello che gli riesce meglio perché noi sappiamo magari solo una determinata cosa o un determinato o una determinata sequenza di cose manca mancano dei personaggi come eri te allora per la fra poco noi lì in realtà eravamo molto sereni perché quasi tutti o tutti sapevamo che cosa dovevamo fare dovevamo preoccuparci solo del nostro incontro e non dovevamo fare una serie di altre cose che molte volte vengono richieste proprio perché c'è una mancanza di organizzazione e di strutture quindi io la io sono io stavolta a lanciarti tra virgolette la provocazione è probabile che il wrestling italiano abbia bisogno ancora una volta di un Michele Posa che prenda in mano le redini e che vada a cercare in ogni federazione i due tre migliori cavalli da guerra e che costruisca e che costruisca qualcosa poi magari non sarà questo Michele Posa ma salterà fuori un altro Michele Posa chissà che perché secondo me sto usando il tuo nome per ma ci vuole una persona magari affiancata da altre persone che non hanno interesse a combattere ma hanno interesse nella storia ma hanno interesse nel vendere il prodotto quello è nel vendere il prodotto nel divulgare il prodotto nel creare un brand nel creare nomi nel creare trademark nel creare nel creare nel divulgare e lasciar fare ai lottatori quello che gli riesce meglio combattere sempre e secondo delle linee guida il motivo per cui molte volte il wrestling italiano fa così schifo è perché e l'ho sentito dire più di una volta avete dieci minuti fate quello che volete perdonami Michele magari la maschera maschera la maschera annebbierà un po' questa parola ma secondo me è una stronzata incredibile il lottatore non può fare quello che vuole non deve fare quello che vuole ci vogliono delle linee guida capisci la vita la vita senza regole è anarchia le regole ci aiutano un attimo a mantenere una struttura e la stessa cosa serve secondo me nei match di wrestling ora chi ci darà delle regole chi ci darà una struttura e magari deve ancora arrivare chissà se arriverà questa persona beh lo spero guarda io te l'ho fatta perché l'ultima volta che ho collaborato con uno show era quello della asca a milano il best in italy dove io ero cofinanziatore però ho detto non voglio saperne niente perché avete una filosofia di intendere il wrestling che è molto diversa dalla mia quindi per voi i lottatori sono quasi dei kickboxer degli esperti di arti marziali miste quindi voi vendete il match come i record io voglio le storie va bene fate come volete poi però ci fu un match a quattro e purtroppo era protagonista anche il nostro amico mambo italiano e io rimasi esterefatto perché fare un match a quattro è complicatissimo uno pensa a un match a quattro ne vedo tanti in l'ambiente è certo con atleti che hanno delle competenze eccellenti e durante l'incontro questi poveri cristi cioè fuori dal ring c'erano due capannelli che si guardavano cercando di dire adesso che diavolo facciamo cioè dieci minuti gli atleti bravi preparati che però non avevano ricevuto nessuna indicazione e trovare il timing in un incontro a quattro se non c'è veramente una attenzione maniacale ma è difficilissimo a quattro poi non è la wb che uno si mette a terra e lascia gli altri due nel ring lì tutti ti vedono cioè non è la telecamera che ti stacca e ti nasconde cioè io rimasi un po' in ordine dicendo ma poi andai da mambo italiano che allora combatteva come credo andrew winston dissi scusa ma 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 come l'avete organizzato e lui mi disse non l'abbiamo organizzato cioè nessuno si era seduto a organizzare il match con loro ma ma come è possibile è fuori dal mondo cioè allo sbaraglio vi hanno mandato cioè come fai a fare un match a quattro se non è una storia se hai tre vittorie una sconfitta contro sei vittorie zero e non hai dei punti carline del match uno che si fa male va via due che ne attaccano un altro lo mettono cappo sotto un tavolo cioè era veramente la sagra del caos concordo 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 assolutamente per questo come come ho detto prima e lo ripeto ci vogliono regole ci vuole una struttura e anche se può il lottatore di wrestling può fare della resistenza fidatevi che quando c'è un organizzatore o qualcuno che un minimo da delle linee guida tutto diventa più facile ed è più facile anche trasmettere quello che si deve trasmettere al pubblico la risposta del pubblico è maggiore il lottatore è più gratificato e sarà più invogliato a seguire le determinate regole e a rispettare sempre il suo posto nella card perché ognuno ha il suo posto nella card perfetto red scorpion se sto qua un'ora praticamente anche di più e che diamine grazie davvero mi sono liberato michele sai che è sempre un piacere rispondere alle tue domande e fare due chiacchiere con te era un paio di mesi che non ci sentivamo per cui mi sono tenuto libero e ho preso l'ultimo appuntamento in palestra chiuso dieci minuti prima delle nove per arrivare a casa mettermi a petto nudo rivestirmi per twitch e essere disponibile per la tua intervista perché se vanno gli allievi cioè c'è già qualcuno di nuovo che si è buttato in palestra o ancora troppo presto ed è estate no 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 si stanno allenando adesso ci sono dei nomi tipo è un ragazzo nuovo che si chiama maxi toy boy che purtroppo ha debuttato poco prima del covid e ha fatto pochi mesi ne sta approfittando per allenarsi tanto ed è diventato veramente ben grosso e ben strutturato abbiamo la fortuna di avere in accademia di wrestling un bravo nutrizionista che saluto che francesco margheriti che segue gli atleti più professionali e quelli che fanno delle delle esibizioni come me cioè se voi vedete tutte le mie foto col fisico super tirato eccetera eccetera è unicamente merito del mio booker nutrizionista lui mi dice cosa mangiare quando mangiarlo e come mangiarlo se si seguono le regole con una matematica non esatta i risultati si ottengono perfetto allora non vediamo l'ora di vederlo in azione magari nei prossimi show assolutamente io spero sempre magari di venire a dare un'occhiata magari quando tornerete in lombardia se sarà possibile muoversi cercherò di coinvolgere qualche mio amico che mi farà da autista perché no sarebbe una cosa piacevole mi farebbe molto piacere michele rivederti presto magari nell'occasione di uno spettacolo no poi abbiamo parlato anche molto bene con l'organizzatore della rising sun cioè ero curioso di vedere un po un suo spettacolo perché un conto è dal vivo che riesco a capire anche delle minuzie che possono fare la differenza un conto è un video che mi mostra il match ma mi a me piace il contorno grazie mille red ci vediamo a settembre allora per un'intervista ancora più lunga con tutte le ultime tue novità grazie mille red ci vediamo a